Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo nostro riepilogo settimanale dei fatti di questa quinta settimana del mese di maggio, quinta settimana perché la prima è stata a scavalco ovviamente, settimana che ha visto in conclusione le sentenze della Corte d'Appello del Tribunale di Torino per il secondo troncone del processo Minotauro, vediamone. La Corte, presieduta dal giudice Paola Perrone, ha inflitto complessivamente 45 condanne e 25 assoluzioni contro le 36 condanne del processo di primo grado. Vediamole allora le condanne nel dettaglio nome per nome. Nicodemo Agostino, 8 anni, Domenico Agresta, 5 anni, Cosimo Arena, 8 anni e 6 mesi, Vincenzo Argirò, 17 anni e 3 mesi, Roberto Barbera, un anno e 8 mesi, Vittorio Bartesaghi, 3 anni, Antonino Battaglia, 3 anni e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Achille Berardi, assoluzione, Giuseppe Camarda, assoluzione, Maurizio Carpentieri, assoluzione, Antonio Carrozza, 6 anni, Cosimo Catalano, assolto, Vincenzo Catalano, assolto, Antonio Rocco Certomà, assolto, Vincenzo Ciano, assolto, Vincenzo Commisso, assolto, Nevio Coral, 8 anni, Gaetano Cortese, 5 anni, Rocco D'Agostino, assolto, Saverio De Marte, assolto, Salvatore De Masi, 12 anni, Francesco Di Reda, 2 anni e 4 mesi, Vincenzo Antonio Fazzari, assolto, Vincenzo Femia, 6 anni e 6 mesi, Angelo Giglio, assolto, Luigina Gigliotti, assolta, Domenico Guarneri, 5 anni, Giuseppe Idotta, 6 anni, Nicodemo Gentile, 5 anni e 6 mesi, Valerio Ierardi, 1 anno e 10 mesi, Nicola Iervasi, 5 anni, Giorgio Liporace Cotroneo, assolto, Franco Lossurdo, 3 anni e 3 mesi, Maria Lossurdo, 1 anno e 8 mesi, Giovanni Macri, 3 anni, Nicola Macrina, 9 anni, Domenico Mangone, assolto, Giuseppe Mangone, assolto, Antonio Marando, assolto, Rosario Marando, 4 anni, Giuseppe Mastromatteo, 2 anni e 2 mesi, Stefano Modafferi, 7 anni, Francesco Napoli, 8 anni e 6 mesi, Gaetano Napoli, assolto, Girolamo Napoli, 7 anni, Rocco Antonio Napoli, assolto, Rocco Napoli, 5 anni, Saverio Napoli, 12 anni, Aldo Nigro, assolto, Giuseppe Nirta, 3 anni e 8 mesi, Antonino Chiuto, 2 anni e 8 mesi, Antonio Pagliuso, 3 anni, Antonio Papalia, 7 anni, Fabio Pietra, assolto, Vito Pollifroni, 5 anni e 6 mesi, Domenico Portolesi, 7 anni, Benvenuto Pratico, 13 anni, Mattia Ragusa, un anno e 8 mesi, Bruno Raschillà, 7 anni, Stella Raso, 2 anni e 9 mesi, Antonio Romano, 7 anni, Natale Romeo, 10 anni, Massimo Troiano, 2 anni, Bruno Trufio, 7 anni, Giovanni Turrà, assolto, Francesco Ursino, assolto, Giovanni Vadalà, 7 anni e 4 mesi, Antonino Versaci, Assolto, Marco Zingarelli, 2 anni e 2 mesi, queste le sentenze della Corte d'Appello. E poi tanti fatti di cronaca, ha tentato di travolgere con l'auto un gruppo di giovani dopo una liti in una discoteca di Ivrea, in Corso Vercelli, al Tweed, una decina i feriti, per fortuna non grave, Emanuele Bosio, 41 anni, di Cascinette, è stato arrestato per tentato omicidio plurimo e il suo arresto è stato poi confermato dai giudici, i feriti tutti fra i 20 e 35 anni erano stati medicati in ospedale con una prognosi massima di 15 giorni. Lui ha detto di averlo fatto per difendersi e per difendere un amico perché era stato aggredito e cercava di scappare. E poi ci sarebbero pochi dubbi sulle responsabilità delle maestre d'asilo accusate di maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo nido comunale Papacervi di via San Martino a Settimo Torinese. Gli episodi sarebbero infatti documentati da riprese video girate all'interno dell'asilo. Due delle maestre sono di Settimo, la terza è residente a Venaria. Sarebbero una decina i casi di maltrattamenti documentati. Gli inquirenti hanno anche raccolto le testimonianze di una quarantina di genitori. Secondo l'accusa, le tre insegnanti avrebbero creato tra i bambini che frequentano la loro sezione un clima di paura e di stress. Un uomo di 59 anni si è tolto la vita invece a Busano nella sua abitazione in centro. Si è chiuso in casa. Prima ha messo sul balcone il cane per salvarlo, poi ha staccato la corrente elettrica per non coinvolgere gli alloggi vicini. Alla fine ha aperto il gas e si è lasciato morire. Cinque anni di reclusione, la richiesta del PM Patrizia Caputo nei confronti di Daniela Cecchetto, 42 anni, accusata di peculato per aver sottratto complessivamente un milione di Euro ai comuni di Casalborgone e Monte Udapò, di cui seguiva la contabilità. Hanno tra i 12 e i 15 anni i ragazzi che invece non hanno trovato di meglio da fare in questa settimana che spaccare panchine di un parco giochi a Foglizzo. Due sono di Mazzè, mentre il più grande, diciamo il capo della baby gang di Novara, ma le segnalazioni dei cittadini hanno permesso ai carabinieri di rintracciarli. Non sono i soli, però, i carabinieri in settimana hanno individuato e denunciato un gruppetto di teppisti, composti per lo più da maggiorenni, 18-19 anni e da 4 minorenni, 16 e 17 anni. Tutti i residenti nella zona avevano sfondato, lasciando blocchi di porfido, la vetrata di un esercizio e la porta d'ingresso di un condominio. Qui ad incastrarli sono state le videocamere di sorveglianza. Un arresto e tre denunce invece, questo è il bilancio dell'incursione di un gruppo di romeni nel negozio Euronis di banchette. Colpo fallito a Castellamonte, dove i gnoti hanno tentato di sradicare il bancomat di Piazza Matteotti dell'Unicredit Bank. Un ventottenne originario di Chivasso è stato denunciato dalla polizia per aver troffato due anziani con il trucco dell'acqua al mercurio. 40 tombe danneggiate, 20 kg di caditoie di rame e diversi vasi in bronzo rubati. Il bilancio invece dell'ennesimo raid, questa volta avvenuto nel cimitero di Caselle. Si è conclusa poi con l'ammissione di tutte le parti civili l'udienza preliminare ad Ivrea per le morti da Amianto alla Olivetti. Il gruppo ha accolto le richieste tra gli altri della FIOMCGL di alcuni comuni, tra cui Scarmagno. L'udienza nella quale verrà discusso l'eventuale rinvio a giudizio dei 28 imputati è stata aggiornata al 23 settembre. Nuovi guai invece per la IESMOC di Settimo Torinese, la fabbrica di sigarette medi in Italy. La Guardia di Finanza, che aveva già eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare, ha accertato nei confronti dell'azienda una evasione delle accise superiori ai 130 milioni di Euro. Si è risolta invece in poche ore la questione del furto del furgone con cui la Galleria della Locomozione Storica trasporta le proprie auto. È stato rubato e a bordo c'era anche una Torpedo del 1914. Prima è stata trovata l'auto storica, ovviamente non vendibile sul mercato, in località Vercellino di Rivarola e poi poche ore dopo è stato ritrovato anche il furgone nelle campagne di Salassa. Finisce in tribunale la vicenda che vede contrapposto il sindaco di Favria e invece i gestori del circo, il circo di Vienna, che avrebbe dovuto sostare a Favria, ma il sindaco ha detto di no. Gli animalisti esultavano, ma il sindaco ha spiegato che non è una questione etica. L'ultimo circo arrivato a Favria con i suoi tiranti, con le sue attrezzature, ha completamente rovinato l'asfalto che poi ha dovuto rifare il comune e il comune non vuole più spendere soldi per queste cose. Castellamonte poi in questa settimana ha dato l'ultimo saluto alla partigiana Luigina Trione. Gina aveva 88 anni. Fin qui la cronaca, ma la cronaca, quella fortunatamente rosa, lo possiamo dire davvero, questa settimana ci porta il Giro d'Italia. Per la quarta volta, per il quarto anno consecutivo, il Giro d'Italia di ciclismo ha percorso il Canavese. Prima il passaggio nel 2012, poi l'arrivo a Ivrea nel 2013, l'arrivo a Rivarolo e la partenza di Eliello scorso anno. Quest'anno invece è transitata la penultima tappa, quella che ha portato i girini da Saint-Vençain al Sestria, tappa decisiva peraltro per chi avrebbe tentato ancora di rubare la maglia, di portare via dalle spalle di Alberto Contador la maglia rosa. Tante come sempre le iniziative organizzate un po' in tutti i centri, è stata la bella solita festa che il Giro è abituato a vedere sulle strade del Canavese. Per quanto riguarda la pagina sindacale, invece il piano industriale presentato dalla Telecom per l'Olivetti è stato definito in settimana irricevibile dalla FIOM che ha abbandonato l'incontro all'Unione Industriale di Ivrea e non c'è ancora un nuovo appuntamento. Risulta poi iscritto nella bozza previsionale che verrà approvata dal prossimo Consiglio Comunale il debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Tribunale di Bologna sulla vicenda Locat Unicredit Leasing e Rivarolo Futura. Parliamo ovviamente del bilancio di Rivarolo, 1 milione e 400 mila Euro la cifra prevista anche se ci sono in corso trattative ovviamente. In Confindustria Canavesa di Ivrea è stata presentata la 55esima edizione della mostra della ceramica di Castellamonte, secondo degli eventi del progetto Le Tre Terre Canavesane, un'edizione che con il nuovo curatore Guido Curto torna alla terra, quella terra rossa delle colline di Castellamonte. Un'edizione che se vogliamo torna un po' alla terra vera, hai detto meno smalti, più terra manipolata e tanti artisti però con una logica. Sì, assolutamente, proprio artisti che come Mainolfi che ha una sorta di antologica usano la terracotta, usano la terracotta di Castellamonte, la plasmano con le loro mani, gli danno un valore figurativo e poi la cuociono e la bellezza è quel rosso straordinario che si ritrova poi anche nelle stufe, perché indubbiamente anche le stufe di Castellamonte sono eccellenza. Poi tanti altri artisti insieme a Mainolfi, Giovanni Matano che ha studiato con Mainolfi all'Accademia di Belle Arti di Napoli ma da tanti tanti anni vive a Castellamonte, ha insegnato nelle scuole, al liceo all'Esquistitura di Castellamonte, Luigi Stoisa, artiste e donne come Luisa Valentini, come Jessica Carroll e anche dei giovani come il rumeno Radurata che ha studiato all'Accademia Albertina ma ha dato lustro alla cultura rumena. Più tutti gli artisti di Castellamonte che avranno un loro spazio al centro espositivo del Martinetti, quindi la mostra è divisa diciamo in tre sedi, il Palazzo Botton con la mostra Ac Principio Terra Universa di Mainolfi e le terre differenti di altri dieci artisti intorno a lui, il centro Martinetti con la mostra di quasi 30 artisti di Castellamonte che lavorano con la ceramica, più le stufe più addirittura oggetti anche di design. Poi il liceo artistico, il liceo artistico Faccio dove a cura del maestro e direttore a Ennio Lutigliano ci sarà una mostra più ampia non solo di ceramiche ma anche di opere d'arte realizzata dai docenti artisti e dagli stessi ragazzi, gli stessi studenti. Comune di Chivasso invece capofila del progetto Sovraesposizione che grazie anche all'Italian Train Experience mira a valorizzare quelli che vengono definiti giacimenti enogastronomici e turistici del territorio. Sovraesposizione per un territorio come Chivasso che è strategico fra Torino e Milano con l'Expo ma che soprattutto scopre quanto è bello mettersi insieme e quanto è bello scoprire quanto questo territorio vale. Sì, è un territorio con una vocazione straordinaria, innanzitutto di accoglienza, di accoglienza perché insieme ci consente di dare una varietà di offerte, offerte ambientali, offerte paesaggistiche, offerte enogastronomiche. Abbiamo il vino, abbiamo i piselli, abbiamo le fragole, abbiamo i nocciolini, abbiamo dei boschi, abbiamo un fiume che è il fiume padre dell'Italia, abbiamo dei torrenti, dei torrenti anche minacciosi ma che danno l'idea di una varietà stupenda che il buon Dio ci ha dato. Allora abbiamo proprio cercato di mettere insieme a ciascuno per quello che può e che può dare anche nei prossimi anni, perché questo è l'obiettivo, tutto ciò che di eccellenza e di meglio possiamo offrire agli altri, nel modo nostro che è un modo sabaudo, un modo tranquillo ma fermo e tenace e questo vogliamo farlo a partire da questa opportunità che è straordinaria di esposizione mediatica che ci consente di avere ESPO e quindi collegarci a questo progetto altrettanto straordinario di valenza internazionale oltre che nazionale che è Italian Train Experience. Questo ci consentirà quindi di aprire le nostre porte attraverso la tecnologia ma soprattutto attraverso le radici forti che sono il nostro territorio. Un progetto che fa del territorio un valore perché questo è un territorio che comunque vale di suo? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo voluto proprio ragionare a livello territoriale, non creare un appuntamento per chi vasso perché crediamo che sia veramente importante valorizzare il nostro territorio, un territorio che ha molto da dare, molto da raccontare in termini di storia, in termini di attività produttive che ci sono e in termini di risorse che comunque sono visibili a tutti e a disposizione di tutti. Abbiamo proprio voluto puntare su questo, sul nostro territorio, la città allargata, chi vasso come territorio e area vasta che si sposta dalle colline del Monferrato fino al basso Canavese. È difficile riuscire a mettere insieme in un periodo di risorse scarse iniziative come queste? È molto difficile, è molto difficile perché appunto le risorse sono decisamente ridotte e quindi anche molti comuni che sono partiti entusiasti di questa progettualità, comuni che avrebbero effettivamente dovuto essere assolutamente al fianco di chi vasso in questo momento, purtroppo non sono riusciti a partecipare, però crediamo che sia importante per un comune che vuole essere capofila di un territorio, sforzarsi, tirare fuori le risorse magari per essere pioniere di un progetto che sicuramente avrà poi un ampio respiro nel tempo. Sovraesposizione è un'idea ma è soprattutto la voglia di mettere in gioco un territorio. È una scommessa quella di credere che anche i territori considerati minori, non siamo nelle Langhe, non siamo nel Roero, non siamo in paesi, luoghi che sono ormai noti a livello internazionale, ma questo non ci deve spaventare perché dalla conoscenza che ho avuto modo di approfondire in questi pochi mesi mi sono reso conto che c'è una realtà interessante fatta di produttori, di realtà che accolgono, di ristoratori che se opportunamente orientati e sollecitati e soprattutto resi visibili, da qua il titolo della manifestazione si tratta di sovraesporre, di rendere visibili, di rendere molto visibili in realtà di assoluto pregio e di assoluta qualità. Lo faremo attraverso una manifestazione che si svolgerà il 4 e il 5 di luglio nel centro di Chivasso sotto i portici via Torino, nel Palazzo Comunale, attraverso un concorso gastronomico che porterà a Chivasso otto chef di pregio e una decina di giornalisti locali della Stampa Nazionale, esperti in enogastronomia e turismo, che valuteranno gli chef e soprattutto faranno un po' da eco mediatico su tutto quello che saranno i prodotti di questo paniere, di quest'area del Chivasese. Si è concluso anche il torneo di maggio alla corte di Re Arduino, vediamo le immagini. Il Paglio dei Borghi è andato per la cronaca al Borgo San Rocco, ma per Re Arduino e la Regina Berta è stato un torneo amaro, nonostante la grande affluenza di pubblico e l'entusiasmo che li ha sostenuti. Nella notte fra sabato e domenica della scorsa settimana, quando la festa impazzava nel centro di Quornier, i gnoti si sono introdotti nelle loro abitazioni dove hanno agito indisturbati. Un colpo quasi simultaneo hanno preso tutto quello che hanno trovato, oggetti preziosi, denaro, computer, macchine fotografiche, insomma hanno fatto una vera e propria razzia. E poi si sono presentati in tanti ragazzi fra i 12 e i 14 anni al casting a Villa Vallero di Rivarolo per il firm I Cormorani. Casting a Villa Vallero per un film e gli attori saranno giovanissimi, come vi è venuta questa idea? Ma diciamo che l'idea è venuta, io ho vissuto tanti anni all'estero e quando ero all'estero tornavo qui d'estate, mi immaginavo, rivivevo le sensazioni che avevo vissuto nell'adolescenza e l'idea è nata un po' così, l'idea è nata, il primo spunto per l'idea è stato un anno alla festa di Sant'Anna a Rivarolo, osservavo due ragazzini che stavano guardando questa festa in quell'età che va dall'infanzia all'adolescenza, quindi quel passaggio delicatissimo e li guardavo e loro guardavano la gente che stava ballando all'interno, al mezzo della pista e li prendevano un po' in giro, prendevano un po' in giro gli adulti e poi alla fine sono entrati a ballare e da quest'idea è cominciato un processo di rivisitazione dei luoghi, dell'infanzia e da lì è nata l'idea. Il film Cormorani, sarà girato tutto in Canavese, sarà girato con questi ragazzi, non svegliamo troppo, ma comunque sarà una storia di ragazzi, del loro vissuto? Esatto, una cosa fondamentale parlando anche con i produttori del film era che i ragazzi fossero di qua, vivessero nella zona, diciamo che è molto importante il legame che lega i ragazzi al Canavese. I ragazzi sono di qua, la storia è ambientata nelle zone intorno a Rivarolo, Bosco Nero, Feletto e appunto è il racconto di un'estate un po' sospesa nel tempo, quelle stati magiche che ci ricordiamo quando finiscono le medie e comincia la prima superiore, non si sa bene qual è il futuro, il corpo cambia, cambiano gli interessi, c'è ancora voglia di giocare, però c'è già curiosità per quello che ti circonda e questi sono i temi fondamentali che mi sembrano i più interessanti da scoprire nel film. Il film ha una parte di documentario molto forte, c'è uno studio sul territorio, sui ragazzi di qua molto forte che appunto anche attraverso i casting siamo un po' portando avanti. Sarà un film per ricordare o sarà un film di attualità che porterà i giovani a capirsi anche meglio? Diciamo che un po' tutte e due, c'è una parte autobiografica per quello che riguarda i miei ricordi che però è passata in secondo piano rispetto poi all'evolversi della storia del film. Il film è ambientato nell'attualità e quello che mi interessava è prendere spunto dalle mie idee, dai miei ricordi, da quelli che poi diventano col passare degli anni, crescendo, diventano ricordi universali, queste stati che abbiamo visto tante volte nei film, ne abbiamo letto nei romanzi, quindi tutti questi elementi però portati a due ragazzi di oggi che quindi sono un mondo da scoprire, sono una generazione che cambiano così in fretta e questo è il conflitto, quello che mi interessava del film, da una parte la parte autobiografica è di ricordi, di immaginario collettivo e dall'altra parte due personaggi reali all'interno di queste situazioni così immaginate. Porteremo questi giovani che soggiano i paesi tropicali a Dorco Beach, che non sanno forse che cos'è, ma ti sei chiesto come sarà lavorare con questi ragazzi che sono molto giovani e non professionisti? Sono sicurissimo che sarà un'esperienza favolosa, lo stiamo già vedendo nei casting, ognuno dei candidati è un mondo, è un film diverso, ha un suo mondo che sarebbe bello poter raccontare, chiaramente è impossibile, sono tanti e una delle sfide del film è appunto lavorare con ragazzi non professionisti, perché ricerchiamo quello spunto di realtà all'interno del film, quella cosa della cattura del momento reale che penso possa essere uno dei valori più importanti del film. Un film che peraltro si farà con il contributo e con l'avvallo della Film Commission, quindi una opera importante. Esatto, per il momento abbiamo ricevuto una linea di finanziamento da parte della Regione Piemonte, abbiamo vinto il bando per lo sviluppo del Doc Film Fund, che è un fondo regionale per lo sviluppo dei documentari e questa è stata chiaramente una spinta ulteriore a portare avanti la produzione del film. È una produzione molto particolare, non è una produzione classica dove c'è una sceneggiatura, dove tutte le scene vengono girate una dopo l'altra e magari neanche in ordine, infatti abbiamo un periodo di ripresa molto ampio da giugno a settembre e questo ci permetterà di lavorare con la sceneggiatura direttamente stiamo girando, sarà un film in continua evoluzione e chiaramente abbiamo stabilito dei tempi in cui poter ripensare a quello che abbiamo girato e poter scegliere una delle strade che si apriranno durante le riprese del film. E a proposito di spettacoli, il teatro di Rivara in fine settimana, il teatro che è una vera e propria bomboniera, ha ospitato dieci uomini per Marilyn Monroe, uno spettacolo nel quale i dieci uomini che Marilyn ha amato di più gli scrivono dall'aldilà. Uno spettacolo, uno spettacolo teatrale presentato anche a Rivara che però fa parte di un progetto. Partiamo dallo spettacolo. Lo spettacolo si intitola Dieci uomini per Marilyn, è tratto da un libro scritto a quattro mani con un medico scrittore che si chiama Enrico Monti e parla dei dieci uomini più amati da Marilyn Monroe che trascrivono dall'aldilà delle piccole lettere d'amore per confessare tutto il bene che hanno voluto a questa grande diva, senza più le inibizioni e i freni inibitori del periodo e quindi raccontando la verità, verità anche scomode come quelle sulla morte di Marilyn. È uno spettacolo rigoroso oppure c'è della fantasia? Io tra gli autori di questo libro dico che non c'è nessuna fantasia perché su di lei sono stati scritti tanti libri, però questo racconta tra le righe tutta la verità, quindi direi che è proprio tutto reale, soltanto raccontato in forma di lettera d'amore, quindi sembra tutta una favola. Come è interpretarla invece poi sul palcoscenico? Io rigorosamente continuo a mantenere la mia identità perché comunque scelgo di non scimmiottare l'immagine impossibile da comunque riprodurre ed è benissimo riprodotta invece dai filmati scelti e dalle foto del nostro regista Alberto Micheli e quindi lei è sul palco con noi, però io interpreto l'anima artistica di Marilyn, quindi il canto che lei amava, la musica jazz che aveva sempre fra le dita perché ascoltava sempre i dischi interpretati da Frank Sinatra e quindi per lei la sua forma di così più rilassante era ascoltare musica e cantarla, nessuno sa o pochi sanno che era una cantante di jazz e un interprete abbastanza curiosa con una voce particolare, quindi io sono l'anima artistica di Marilyn, non lei. Questo per lo spettacolo, il progetto Marilyn invece è un po' più ampio? Il progetto Marilyn è parlare della diva sotto forma di diverse arti, pittorica, infatti un nostro saxofonista è anche un bravissimo pittore che ritrae in modo diverso da tutte le foto viste, da tutti gli altri pittori questa diva e quindi portiamo con noi anche una mostra oppure ecco la vediamo dal punto di vista dell'abbigliamento, ho creato abiti, visto che disegno anche degli abiti che ricordano anche alcuni film, però non sono esattamente quelli di Marilyn, però ricordano, questa cosa è un ricordo attraverso le forme, forse forme diciamo proprio dell'arte di Marilyn, oppure anche scrivere su di lei anche altre cose come canzoni, in quanto abbiamo scritto insieme ai miei musicisti, io i testi e loro le musiche di nuove canzoni in italiano, quindi raccontandola anche attraverso non solo canzoni in inglese, che sono quelli che lei interpretava nei film, ma anche brani inediti per far capire ancora meglio il personaggio, quindi a tutto tondo raccontare Marilyn oggi, che è ricordata sicuramente anche in tante forme, però noi l'abbiamo concentrata in questo nostro progetto, Tribute to Marilyn l'abbiamo chiamato. Siamo nel regno della pace e tu conservi ancora le reliquie rancorose della vita terrena. Sono Frank! Com'è interpretare questi uomini rapportarsi con Marilyn, sapendo che è Marilyn il personaggio principale? Il progetto è stato fin da subito interessante perché io posso dire di conoscere Marilyn, ma di non esserne un fan, per cui io so bene chi è, la sua storia piaceva molto a mia madre e quando Morgana e Enrico mi hanno proposto questo progetto mi ha divertito molto perché l'ho potuto immaginare da zero, quindi così anche così come ho immaginato da zero il rapporto di questi uomini con Marilyn. Come dice giustamente Morgana non si è pensato di fare uno scimmiottamento, ma di caratterizzarli e alcuni di questi uomini mi sono più simpatici, altri meno. E termina qui il nostro consueto riepilogo dei fatti di questa settimana. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.